Salve a tutti, eccomi ritornato con un nuovo video dopo un periodo di stop forzato per problemi di salute. Comunque adesso tutto a posto. Ci ritroviamo ad attenzionare a questa nuova partita del Palermo contro il Cittadella allo stadio Tombolato. Veniamo da due risultati non facili da poter assimilare perché anche se il nostro obiettivo principale è quello della permanenza nella categoria, la situazione di classifica ci potrebbe permettere anche di sognare il grande passo. Non voglio dirla per non illudermi e non illuderci soprattutto. Quindi bando alle ciance vedremo le formazioni di oggi appunto allo stadio di Tombolato di Padova e vedranno i padroni di casa allenati da Edoardo Gorini con un 4-3-1-2 in porta castrati in difesa Mattioli, Perticone, Frara e Giraudo a centro campo Mastrantonio, Branca e Vita Ignazio Lores a supporto delle due punte Mirko Antonucci e Andrea Magrassi Invece il nostro Palermo con il consueto 3-5-2 Pigliacelli tra i pali Nedelciaru Mateiu Scusate Piccoli inconvenienti Nedelciaru Mateiu e Bettella in difesa Di Mariano Saric Gomez Verre e Sala a centro campo Soleri Brunori in attacco Ovviamente la la speranza è sempre quella che si colgano questi tre punti non tanto per il discorso playoff perché come dico sempre il nostro obiettivo è sempre quello la salvezza se poi viene altro come come playoff o come anche perché no anche un secondo posto cosa difficile però il calcio nel calcio la palla è rotonda tutto può succedere come può succedere che ci sia una promozione diretta come ci può essere pure il pericolo play out spero spero completamente di no però nel calcio la palla è rotonda e può succedere qualsiasi cosa anche se la forza della nostra società ci permette di poter pensare in positivo quindi speriamo in una vittoria dei nostri buona visione a tutti come avete notato non ho fatto ultimamente commenti sui post partita del Palermo perché innanzitutto non non mi sembrava il caso e poi per alcuni impegni molto ravvicinati non ho potuto fare commenti sulle partite quindi diciamo che questa parte l'ho un pochino lasciata a sé perché ovviamente credo che tante volte i commenti a caldo sono poco veriteri lasciano spazio a poca lucidità